Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, buon inizio settimana ci ritroviamo come sempre tutte le mattine ormai da dieci anni a questa parte qui dagli studi di via Borsellino per leggere i giornali. Allora cominciamo dal santo del giorno però oggi è un santo importante perché oggi è San Gennaro, un santo che amano tantissimo non solo i napoletani ma un po' in tanti poi c'è il culto di San Gennaro in particolare la liquefazione del sangue che spesso sono state sottoposte anche a critiche la stessa chiesa ricorda che i miracoli non sono da moltiplicare senza necessità però nello stesso tempo è anche vero che la pietà popolare va rispettata e che non possiamo essere noi quindi a stabilire quali sono i miracoli che Dio può operare attraverso i santi quindi San Gennaro, il sole è sorto alle 6.51 e tramontare alle 19.13 il tempo per oggi vedete ancora c'è tempo perturbato soprattutto nella prima parte della giornata in queste ore ancora qualche goccia di pioggia poi la nuvolosità si attenuerà a partire da mezzogiorno dalle ore centrali per quanto riguarda le temperature siamo intorno ai 17 gradi alle 7.30 del mattino sono ancora in lieve diminuzione per domani martedì 20 settembre il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso con aumento di lievi stratificazioni nel corso del pomeriggio le temperature minime sono in ulteriore lieve diminuzione le massime sono in ripresa c'è un intenso vortice depressionale sull'Europa che potrà determinare sul medio versante adriatico condizioni di instabilità a tratti spiccata anche per la prossima settimana staremo dunque a vedere ma d'altra parte ormai l'estate è finita quindi ci stiamo ormai addentrando verso l'autunno cominciamo a leggere i giornali e a proposito di estate c'è ancora spazio per qualche anche se chiaramente non in queste ultime ore però l'atta per andare un po' al mare dicevamo di coloro che vanno a prendere il sole di settembre nella pace nella tranquillità e senza dunque il caos di agosto o di luglio però ci sono dei rischi nel senso quello di essere attaccati dai moscerini guardate che cosa è successo a Pesaro centinaia di persone sono state punte da minuscoli insetti specialmente in spiaggia schiene arti pieni di pustole, file in farmacia e alla guardia medica per curarsi il fenomeno mai successo sul nostro litorale almeno in queste dimensioni questa è soltanto una fotografia per esempio questa donna è stata punta vicino al petto sotto un po' tra il petto e l'ascella ma andiamo a vedere la schiena per esempio non so se l'abbiamo scaricata, no non ce l'abbiamo, vabbè c'era anche un'altra fotografia dove c'era addirittura la schiena di una persona completamente punzecchiata da questi insetti, solo fastidioso però niente di più la procura elvetica svizzera restituitelo dunque il quadro di Leonardo va verso la via di casa oggi c'è un'udienza decisiva in Svizzera i legali della proprietaria però si oppongono mentre a Pesaro Antonio Ricci detto Papi aveva 80 anni è morto e scomparso campione di basket e di sapere addio a Ricci, questo è il titolo poi merce taroccata, no sono regali per mia moglie, un senegalese ha convinto il giudice che gli ha ridotto la pena, quindi ha ridotto le accuse a suo carico poi sempre sul resto del Carlino, sull'Interquartieri siamo a Fano, pronta ma c'è chi dice no il comitato contrario alla realizzazione intende organizzare un'assemblea pubblica passiamo dunque alla rush finale per questo ultimo tratto dell'Interquartieri ma il comitato per la viabilità sostenibile non si rassegna e continua a contestarne l'utilità e c'è una lettera che pubblica il resto del Carlino questa mattina con alcuni suggerimenti sono suggerimenti di un ingegnere per decongestionare il traffico cittadino traffico e code basterebbe allargare secondo questo ingegnere il ponte storto e si tratta dell'ingegnere Carmelo Latorre andiamo adesso invece sulla pagina del Corriere Adriatico la prima pagina del Corriere Adriatico innanzitutto l'articolo principale è sul turismo i congressi salvano settembre per l'APA chiusi due alberghi su tre adesso il piano di riqualificazione poi c'è la Villa di Pavarotti nella foto centrale della prima pagina del Corriere progetto accademia per Villa Pavarotti dal masterclass a laboratorio per giovani e allora vediamo qual è l'argomento principale del Corriere Adriatico di oggi gli alberghi dopo l'estate già chiusi due su tre gran parte degli alberghi ha concluso la stagione nell'ultimo fine settimana ed è tempo di bilanci le convention però salvano settembre l'APA dice gli ospiti adesso li rivedremo per candele a candelare quindi ancora ci vorrà un po' di tempo stiamo parlando già di Natale l'associazione affronterà breve il piano di riqualificazione messo a punto dal comune la seconda pagina invece sempre su questo argomento in primo piano fanno non molla si punta invece allo sport sempre per quanto riguarda le strutture ricettive gli alberghi e quant'altro sul turismo cecchini degli albergatori sono gli albergatori e i gestori di camping a portare le presenze dice e poi le altre pagine le altre pagine del Corriere c'è la notizia che ha fatto commuovere anche se vogliamo la notizia di quell'uomo che soltanto due giorni dopo la morte della moglie al quale era legato da una vita è morto di infarto quindi doveva andare al funerale della moglie in realtà non c'è andato perché l'hanno trovato morto sul letto non ha retto al dolore e quindi due giorni dopo c'è il funerale di questo uomo di 66 anni Carlo Scavolini un funerale che i familiari hanno chiesto di celebrare in forma strettamente privata quindi soltanto un po' di parenti e di amici saranno celebrati oggi alle 16.30 nella chiesa di Madonna di Loreto il funerale di Carlo Scavolini che se ne è andato colpito da un infarto nel giorno del funerale della moglie Simonetta Giommi deceduta a 64 anni due giorni prima dopo una malattia la famiglia ha scelto come dicevo di dare l'ultimo saluto a Carlo Scavolini in forma rigorosamente privata la presenza dei parenti e degli amici più stretti e questa è la notizia da Pesaro mentre sulla pagina in primo piano delle Marche vedete Sanità alla rosa dei futuri manager però io andrei sotto il nuovo Corecon passa in commissione oggi il primo incontro per scegliere il presidente dopo la bufera capozza adesso non sto a raccontarvi perché il presidente Pietro Colonnella si è dimesso ma è tutta una questione legata alla ragazza che si è uccisa dopo la diffusione di video hard il vice presidente del comitato del Corecon delle Marche aveva esternato su un twitter una frase che lasciamo perdere e di conseguenza il presidente ha chiesto le dimissioni di questo vicepresidente lui ha detto no io non ho intenzione di dimettermi così Colonnella cosa ha fatto? si è dimesso, ha fatto dimettere tutti quanti quindi alla fine il Corecon adesso delle Marche in questo momento non c'è e allora va riscelto il presidente vanno riscelti tutti quanti allora ci sono dei nomi in Lizza e tra questi c'è anche tra questi 16 nomi per la presidenza del Corecon tra 16 il campo si è ristretto a 4 e c'è anche un fanese l'ex sindaco di Fano Cesare Carnaroli ok? quindi staremo a vedere quello che succede adesso le altre pagine le imprese in ginocchio dopo il sisma 50 hanno chiuso e 3.700 sono a rischio sono state sospese le tasse e concessi gli ammortizzatori in deroga per tutti i lavoratori dipendenti però come vedete insomma la situazione non è bella da Pesaro spiaggia per i cani nuova scelta da Baia Flaminia a Sottomonte l'opposizione ubichiamola nel tratto di arenile libero tra i due sottopassi e poi qui quel do di petto quel do di petto da Villa Pavarotti siamo sempre a Pesaro nella splendida dimora del San Bartolo si è appena conclusa un masterclass di canto barocco nel futuro c'è una sede per l'accademia musicale ma il percorso deve essere ancora perfezionato zero abusivi invece a Fossombrone per la fiera di San Matteo ha funzionato il piano di controllo predisposto per la fiera apprezzamenti per il sindaco e le forze dell'ordine peccato invece per la pioggia che ha rovinato un po' la festa mappa per i beni abbandonati invece siamo sulla pagina della Valle del Cesano da San Giorgio di Pesaro così ridisegneremo il futuro l'Unione Reveresca Sebastianelli spiega cardini e obiettivi della Smart Mapping e poi Pippo Inzaghi che l'altra sera era Lido di Fano tutti a caccia del selfie con Super Pippo marcato dai tifosi Blitz del Bomber oggi allenatore con il suo Venezia di ritorno da Ancona da ritorno da Ancona si è fermato a mangiare una pizza quando si è sparsa la voce chiaramente tutti attorno a lui e alla squadra a fare selfie e quant'altro qui vedete anche il Pullman della squadra del Venezia squadra del Venezia che sarà a Fano il 4 dicembre allo Stadio Mancini incontrerà e si scontrerà con l'Alma Juventus Fano chiudiamo con la pagina di Fano del Corriere Adriatico in evidenza vedete il Carnevale scuole, corsi, veglioni e convegni così sarà Carnevale tutto l'anno rafica di iniziative del nuovo direttivo si parte ad ottobre con l'ufficio turistico primo appuntamento rivolto ad agenzie, aziende, case editrici e delegazioni di altre città e tra le tante cose c'è anche nel programma della Carnevale risca anche il ritorno della Fano dei Cesari poi la cronaca sotto ambulanza contro un'auto schianto in Viale Buozzi l'impatto è stato violentissimo alle 8.30 di ieri mattina 5 feriti viabilità in tilt per ore di spalla Mascarin aspetterà l'autobus con i bambini l'assessore in prima linea dopo i disagi e le polemiche questa mattina ha dichiarato Mascarin io e la dottoressa Mosciatti verificheremo di persona tutta la situazione degli scuolabus attendono e quindi attenderemo gli scuolabus presso gli stalli insieme ai bambini e allora partiamo da qui da questa ultima notizia e andiamo in collegamento in diretta con uno di questi stalli dovremmo essere collegati infatti con Lino Balestra e proprio con l'assessore Mascarin che si trova dove? buongiorno intanto Lino Sì buongiorno Marco buongiorno a tutti i telespettatori siamo qui insieme appunto all'assessore Mascarin come hai detto in rassegna stampa effettivamente è qui tra l'altro lui ti ascolta ci ascolta in cuffia quindi se vuoi rivolgergli direttamente qualche domanda lo puoi fare c'è anche la sua collaboratrice e quindi effettivamente stiamo aspettando lo scuolabus che dovrebbe passare fra cinque minuti però noi nel frattempo che eravamo qui che ci posizionavamo abbiamo visto uno scuolabus andare su verso Monte e quindi insomma l'assessore mi conferma che il servizio è partito allora sì il servizio è partito in questi ultimi due giorni abbiamo visitato il deposito ho parlato con gli autisti con i dirigenti della ditta Tundo abbiamo verificato di persone anche l'efficienza e la qualità dei mezzi questa mattina il nostro giro in realtà è già iniziato verso le sei e mezza e posso garantire che i mezzi sono partiti adesso quello che vogliamo verificare nei prossimi 20-30 minuti ovviamente alla fine della giornata essendo i percorsi nuovi e gli autisti nuovi che una serie di disguidi fisiologici sugli orari sulla puntualità sui passaggi siano ridotti al minimo perché questi ovviamente potrebbero avvenire e su questo chiediamo ancora un po' di pazienza nel caso alle famiglie e agli utenti la cosa importante però questa mattina è che il servizio di trasporto scolastico parta e questo è avvenuto e quello che io e i miei collaboratori in queste ore stiamo facendo è girando la città andando nei vari stalli controllare appunto la puntualità degli orari la correttezza dei percorsi e intervenire quindi tempestivamente laddove eventualmente sarà necessario aggiustare il tiro tra l'altro oggi torna comodo lo scuolabus proprio perché il tempo non è dei migliori quindi con la pioggia fanno comodo e tra l'altro ho visto sabato stavano facendo le prove dei tragitti stavano prendendo cronometrando i tempi e tra l'altro ho visto anche scuolabus tutti nuovi di zecca insomma sì scuolabus nuovi e questo è un elemento comunque importante e tra sabato e domenica abbiamo anche noi insomma contribuito a coordinare una sorta di esercitazione degli autisti e dei mezzi quindi i cittadini ci hanno segnalato in tanti punti della città per fortuna di aver visto anche la domenica mattina gli scuolabus girare proprio perché in questi giorni abbiamo voluto e preteso dalla ditta che ci fosse proprio un esercitamento vera e propria che consentisse anche noi autisti di impratichirsi di prendere conoscenza precisa delle vie dei percorsi e quindi anche poter offrire al meglio un servizio che oggi deve essere nei limiti del possibile proposto per l'appunto con grande professionalità ecco l'ultima domanda assessore poi la lasciamo sul lavoro per quanto tempo la ditta effettuerà questo servizio nella provincia penso sia un discorso provinciale no? è un bando di gara provinciale su tre anni in questo caso e chiaramente però diciamo ci aspettiamo che la qualità del servizio vada a regime in qualche giorno ecco anche se la durata temporale della gara è questo chiaramente e oggi siamo qui di persona come comune di Fano per verificare che questo avvenga nei tempi più rapidi come è giusto che sia del resto bene allora grazie all'assessore Samuele Mascherin grazie Lino Balestra per il collegamento allora noi ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 questa sera invece c'è il telegiornale come di consueto alle 20.30 arrivederci a presto